Via libera del Consiglio Comunale alla riqualificazione delle latomie dei cappuccini. Nella seduta ieri sera i consiglieri hanno accolto il provvedimento all'ordine del giorno che permetterà all'ente di partecipare alla misura di finanziamento. L'assessore alla cultura Fabio Granata ha illustrato gli interventi che interesseranno le aree delle latomie per poco meno di 308 mila euro e che saranno finanziate con fondi europei del programma di azione e coesione della Sicilia erogati dalla regione siciliana. Il progetto provvede la realizzazione di un palcoscenico in legno di 200 metri quadrati, una platea di 570 posti, quattro vie di accesso ed esodo tra loro contrapposte sempre illuminate, l'impianto elettrico completo di un gruppo elettrogeno, l'impianto antincendio, l'ascensore e i servizi igienici. Permetterà, concluso Granata, la riapertura del teatro della verdura ubicato sotto il giardino di Villa Politi che ha una capienza di oltre 500 posti e diventerà un ulteriore proscenio all'aperto nella disponibilità del comune. Nel dibattito in seguito sono intervenuti Ferdinando Messina, primo firmatario di un emendamento di merito sulla competenza del Consiglio ad approvare una proposta progettuale, Michele Mangiafigo che oltre a questo aspetto procedulare ha richiamato l'attenzione sulla necessità che i lavori anche per progetti a favore delle fasce socialmente più deboli e posto anche la questione sulla prossima gestione delle anatomie per la quale Giuseppe Impallomeni, ricordando il lavoro della Commissione che presiede, ha auspicato il ricorso ad una gestione professionale per una loro fruizione ottimale. Rassicurazioni in merito sono venute dal Sindaco Italia che ha sottolineato tra gli altri aspetti come quello delle anatomie sia un progetto anche di coesione sociale per la quantità e la qualità degli interventi di attrezzamento previsti a favore delle persone diversamente abili che permetterà di allargare la pratica dei beneficiari.